L'autonomia differenziata spacca il Paese, prosegue senza sosta la battaglia della CGL contro un provvedimento che sostiene il sindacato aumenterà il divario tra nord e sud. A Pescara questa mattina il coordinamento no autonomia differenziata Abruzzo è tornata a discutere, manifestare la posizione contraria al disegno di legge già approvato in Senato il 23 gennaio e che mette a rischio le regioni più piccole. Quindi per noi è anche importante parlare della questione che l'autonomia differenziata potrebbe creare dei dislivelli veramente significativi a livello sociale. Attaccherebbe l'Abruzzo come appunto tutto il centro-sud e andrebbe a favorire invece quelli del nord. È una cosa purtroppo risaputa che il sud dell'Italia è maggiormente più povero e quindi sarebbe assurdo portare maggiori ricchezze o comunque maggiori fondi a delle regioni che in realtà sono già ricche di loro. Può essere messa in discussione anche la possibilità di curarsi? Sì, è vero. Infatti la sanità è uno dei temi che andrebbe ad intaccare maggiormente qualora l'autonomia differenziata diventasse realtà. Non solo sanità ma anche istruzione. La nostra regione, già falcidiata dal dimensionamento scolastico, arriverà a perdere ancora numeri. Per questo la Camera del Lavoro ha messo in campo un'iniziativa per il prossimo 28 febbraio. Ci sarà il camper dei diritti della FLCCGL Scuola per far capire quanto sarebbe grave avere una scuola regionale, non più una scuola statale. Noi abbiamo bisogno invece di mettere risorse in quelle regioni più povere che oggi hanno sistemi scolastici, sanitari più deboli. La campagna elettorale entrata ormai nel vivo nella nostra regione appare un'opportunità per chiedere l'intervento dei candidati presidenti e fermare questa volontà del Governo. Quindi siamo ben disposti a collaborare comunque con i candidati appunto di queste elezioni regionali per far sì che venga fuori questo tema e che loro dicano la loro e si prendono anche una forma di impegno appunto nel dire che l'autonomia differenziata non farebbe bene alla nostra regione.